Vi guardiamo un piaccio in tutto, grazie Maurizio, grazie a te Patrizio e grazie a tutti voi. Naturalmente ci vediamo la prossima settimana, non mancate. Dal 22 al 24 giugno la chiesa di Our Lady of Old Souls ad Hamilton invita tutti alla festa del trettesimo anno in onore della Madonna del Monte. Per dettagli 905-387-2564. Il 23 giugno il Comitato Santo Nocchio Centrarchese di Toronto vi invita i festeggiamenti in onore del Santo con Cenevallo. Per dettagli 905-856-1579. Il 24 giugno dell'Eclinaggio a Teopoli per una giornata di preghiera e riflessione. Per il pullman chiamate al 416-243-7319 oppure visitate il sito info-at-teopoli.com. Il 24 giugno vi è raffitto al Social Club invita tutti all'annuale San Antonio Picnic presso il Lazio Club Abort. Per informazioni 416-631-7719. L'8 luglio l'Associazione Maria Santissima delle Grazie invita tutti al picnic presso il centro situato all'Aeroport Road. Messa alle ore 10.30. L'incanto dei latticini alle ore 15 in onore di Santa Domenica. Per il pullman partenza da San Filippo Neri chiamate al 416-244-0321 e partenza da San Rocco chiamate al 416-745-2462. Il 25, 26 e 27 luglio la chiesa di San Bernardo dell'Eclinaggio a Sant'Anna Quebec City. Per informazioni su questo viaggio chiamate al 416-244-0321. Il 30 settembre la chiesa di St. Clair ha organizzato un pellegrinaggio a Fatima New York. Per informazioni chiamate al 416-200-45-17. Cari simili telespettatori siamo giunti alla conclusione di ora qui portato a voi da Cian Radio TV International. Grazie di averci seguito come ogni sera, di averci permesso di entrare nelle vostre case e stare un po' con noi. Noi vi diamo appuntamento a domani sera e da tutta la tronco è qui, su ora qui. Buona serata e a domani. Grazie. 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 Grazie a tutti.